Nella settimana della sensibilizzazione al contrasto alla violenza sulle donne, la morte di Giulia Cecchettin diventa emblema di un problema socialmente e culturalmente difficile da sradicare. Ogni 72 ore una donna muore per mano di un uomo, ma i femminicidi spesso non sono che la punta di un iceberg. Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, serve proprio a puntare i fari su quanto accade e a sensibilizzare la società al rispetto delle donne. Gli eventi di avvicinamento a questa data sono innumerevoli e tra questi c'è anche quello voluto da Valeria Toppetti, avvocato e vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna Abruzzo, che per giovedì 23 novembre ha organizzato il convegno Mai Sole nella sala consigliare del Comune di Pescara a partire dalle 15.30 per dire stop alla violenza contro le donne. Sicuramente è necessario prendere più a cuore questo problema, perché ancora oggi ci sono centinaia di donne che ogni anno vengono assassinate e è importante parlarne e non sminuire questo filo rosso che davvero collega tutte le storie. È importante sensibilizzare i giovani, parlarne nelle scuole, nelle famiglie, ma parlarne ovunque, nei luoghi in cui c'è un incontro tra persone. Ed è sicuramente molto importante coordinare la presa di coscienza da parte della società con la garanzia che soltanto la legge può darci e il coordinamento anche con le forze dell'ordine. Io mi impegnerò in questo senso perché ovviamente da donna, da madre, da professionista ci tengo proprio a mettere a disposizione quella che è la mia esperienza per questa causa. Tra gli interventi sono previsti quello della parlamentare Katia Polidori, redattrice del disegno di legge Mai Sole, volto a tutelare le donne in pericolo grazie a un'app collegata a tutti i numeri di soccorso ed emergenza. Quello di Bo Guerreschi, presidente dell'organizzazione internazionale Bontuorri, che si occupa di assistere gratuitamente sotto il profilo medico, legale e psicologico le donne che hanno subito violenza. Quello di Maria Fallivene, garante per l'infanzia della regione Abruzzo e della psicoterapeuta Maria Paola Ciarelli. E poi ancora l'intervento di Don Cristiano, immerso nella realtà dei consultori, e Alessandra Relmi, attrice del cortometraggio di Pierluigi Di Lallo, dal titolo La Preda. Tra i relatori ci saranno anche donne che racconteranno la propria esperienza di madri e professioniste, come Rosemary Di Pillo. Come madre di tre figli maschi in adolescenza, volevo dire che è importante il ruolo della famiglia, quindi educare i figli a rispetto di tutti, ma in primis delle donne. Quindi il ruolo non solo della famiglia, ma anche la scuola e la società, sono importanti per aiutare questi giovani a crescere bene, avere dei sani principi e a rispettare le donne. Il programma del convegno di giovedì prevede anche un contributo musicale di tre pianiste, tra cui Michela De Amicis, con un omaggio virtuale a tutte le donne. C'è sempre un filo rosso, rosso come il sangue, delle donne uccise da questi uomini violenti che lega appunto le donne, le eroine dell'opera lirica, alla tremenda attualità che stiamo vivendo. Pensiamo alla violetta di Traviata, di cui eseguiremo un estratto, e bisogna unirsi tutti quanti, ognuno con le proprie possibilità, per far sì che questo circuito si spezzi.